Il libro che vi presento oggi lo prendo da qui. Ed è il mio preferito. Si intitola In una famiglia di topi e le autrici sono Giovanna Zoboli e Simona Mulazzani. Perché è il mio libro preferito? Semplicemente per le illustrazioni, perché io le trovo bellissime. Ovviamente poi racconta anche la storia di una famiglia di topi, il momento della colazione, il momento del vestirsi, il momento della passeggiata. Ma indubbiamente la peculiarità di questo libro sono le illustrazioni. Perché lo leggo ai miei figli? Semplicemente per educarli al gusto, alle cose belle, ai disegni ben fatti, all'armonia dei colori, all'accostamento delle fantasie. Perché non so i vostri figli, ma i miei tendenzialmente hanno un gusto davvero pacchiano. E quindi il mio tentativo è anche quello di educarli un po' al gusto. Sempre delle stesse due autrici c'è anche questo libro, il grande libro dei pisolini. Questo ha sempre illustrazioni bellissime, ma in più ha anche delle filastrocche della Buonanotte. Delle filastrocche che sono particolari perché ci sono dei trabocchetti. Io ve li consiglio entrambi e devo dire che i miei figli prediligono molto questo. Fatemi sapere anche i vostri.